Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo video oggi siamo qui ragazzi su un nuovo mondo su un nuovo pack, su una nuova serie allora si ragazzi ho visto che la serie quella del... della... vuol dire come si chiama Vampire Cron... quello che cazzo è ho visto che c'è sta diventando abbastanza serie, chissà sia anche da me da registrare, anche quello che avevo da vedere visto che praticamente bisogna fare sempre le stesse cose ammazzare mob e trovare le domande è impossibile, quindi per adesso diciamola accantoniamo a cosa faccio 3-4 episodi ma appena trovo modo decente per fare diamanti, cioè per fare l'unico diamante che ci serve in modo abbastanza veloce la continuo e gg oggi ragazzi siamo sulla Gradient Skies 2 che è uscita da pochi mesi credo, si dovrebbe essere uscita da pochi mesi e vi dico solo che per trovare sto modpack ho dovuto scaricare un altro launcher ancora che hanno fatto di minecraft fino ad un altro launcher ancora perchè non bastava il Technic Launcher quindi ho un miliardo di launcher di launcher ragazzi cerco di portarvela no quotidianamente voglio cercare da adesso portarla un giro sin giro vediamo un po' come come organizzo e prima che inizia ragazzi diciamo l'episodio vero e proprio vi invito a lasciare un bel mi piace il video per fammi sapere se questa serie mi va a piacere e niente iniziamo allora come tutto bisogna fare aprire quest book io ho già attivato il coso mettiamoci in non cheat mode grazie non la voglio della cheat mode che adesso non ci serve ho spostato il microfono a destra e forse dovrebbe funzionare un po' meglio cioè dovrebbe riprendere un po' meglio sentire i rumori quindi figo ok avremo il libro vediamo un po' cosa ci chiede da fare vabbè all'inizio di quest sono un po' più molto facili forse sentirete un po' di più il click del mouse questa roba qui però c'è un po' meno rottura dei cazzo che attenzia la tastiera che roba abbastanza le palle 4 step Hawkwood ok un po' abbastanza easy eh oh che cazzo madonna mia ecco iniziamo i fail io ho premuto shift o mio dio ho premuto caps per fermo madonna inizio nei fail knockwood facciamo crescere un bel lock ok eh i sublin adesso non ci serve comunque ragazzi questa qua è come la no è come la escape factory solo che è abbastanza diversa perchè la eh è messa in modo diverso con le quest che a me ragazzi il quest book mi piace troppo come cosa per che ti dà un set cioè non so se è stata fatta apposta però ragazzi per fare le serie su youtube il quest book è perfetto perchè da un cioè da un senso alla serie se no uno potrebbe fare so inizia la sua escape factory fa due macchinari ok la serie fine invece no devi finire la serie devi finire tutto il libro e quindi è figo ok ok facciamo uno wooden planks che è easy ok poi questa l'ho fatta e poi già l'ho fatta vabbè allora il pen il pen of misfortune ho il picco un piccone mi sarebbe comodo così non so che serve il pen adesso come sembra che sarebbe no facciamo il piccone cioè sei pure abbastanza figo come piccone vede morning speed tier gem beh meno spincino 5 fa abbastanza schifo come piccone però vabbè ve iniziava più che bene abbiamo già fatto le prime farm oh mio dio di tutta la roba della tink rifare una bella cosetta eh facciamo le slab proprio old style cioè ragazzi mi piace troppo la 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 skyblock cioè la skyblock vanilla non mi piace troppo io tipo ragazzi amo la escape factory quindi praticamente gioca sto pack ce l'ho già giocato è solo che ho provato a vedere sui ftb se magari l'hanno aggiornato visto che l'hanno fatto la sky factory 2 pensavo che l'hanno fatto pure la 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 granian sky 2 invece no invece c'è ancora non è riuscito e non la faccio invece ragazzi adesso stavo tipo a cazzeggiare sono tipo le no le 9 di sera stavo a cazzeggiare su twitch mentre aspettavo per fare una compagnia tipo su cs e tipo vado a vedere il mic e dico vabbè trovo qualche mod pack figo magari c'è qualcuno sta a fare qualche love su qualche mod pack figo e lo e poi faccio la serie su youtube e leggo la granian sky 2 ok la devo messo a scaricare e faccio la serie infatti subito ho preso il pack e l'ho messo a scaricare perchè c'è questa slab qua che ci faccio uh cazzo ok 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 mettiamo a piantare l'altro albero e quanti quest book c'ho perchè c'ho due quest book questa mostra chest come deposito piccone me lo tengo sentiamo tutto qua dentro e visto che c'è il bom mill la bottarella gliela damo ci chiede a fare uno stanzi un pattern chest ok dove fai pattern intanto ok ok pattern fatto poi era uno così eh già vedo tutti i libri che non leggerò mai perchè sa le cose non mi serve legge poi 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 ok questo no il pattern facciamo lo stanzi table e poi vado a fare pure la la chest ma il legno non mi basta quindi bom millizziamo facciamo un pattern e ok ne ho fatto tutto yes mic bottle o egg ah che devo fa' una flitta eh guardate mi fa fa' su eh come devo trovare il flitta però ah mi da il flitta all'inizio ma no ma sei un grande cazzo ok mi da tutta la roba per fare una cosa all'inizio bello tipo se lo sai qua la come si chiama la scae factory non trovo affatto perchè l'ho messa da giù se me casca rosi qua oh mio dio ok questo non mi ricordo dove andava ok non andava messo così però facciamo la parte sopra poi andiamo nel questo fregno qua dobbiamo fare la parte dell'ascetta e poi quale stick facciamo facciamo i stick quelli della faccio il telefono di qua e mi rompo abbastanza il cazzo che faccio sti stick qua mmm lo posso fare pure dei flint se no vabbè ci metto lo stick normale normale comunque è proprio notte 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 la torcia non c'è quel cazzo allora ascetta questo qua cerco ragazzi di farla abbastanza veloce perchè perchè diciamo a questi problemi quasi sicuramente principalmente le faccio abbastanza veloci tanto credo che un po' tutti sanno come si fanno le cose iniziali della scafactory poi le cose più difficili poi le ce le vendiamo insieme ok questo piccone mi c'è un botto ok mi da l'alluminium nor che mi c'è faccio niente non so quale prende se prende le uova o il mic bottle però il latte latte che c'è faccio con latte niente io prendo le uova così c'ho la farm si fa una mezza farm e non è bad mettiamo tutto qua dentro un bombone pure no un bombone l'ho detto ok andiamo alla prossima quest e la prossima quest fa un crook ok ci fa fa la pecora sugarcane seed o seed sugarcane seed o seed mmm no raga ma che stai a di ma che bello c'è sto pack hanno messo l'agricraft no vabbè raga invece chiudo su sto cosa c'è pure l'agricraft ma cosa stai a di no 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 raga c'è sto pack lo devo finir lo devo finir insieme a voi ragazzi quindi spolliciate questo video no è tipo il seme di iron iron no l'altra pagina però iron 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 eh sì eh sì raga ho capito benissimo ho capito benissimo no vabbè raga ma è fighissimo what ah vabbè è figo raga perchè non lo puoi fai subito sto coso no vabbè raga è bellissimo è bellissimo è bellissimo è bellissimo è bellissimo l'agricraft è quella già nella vecchia fate però oh ma ci da pure il water in canno ma che culo un po agri l'agricraft è quella vecchia o quella nuova no è quella nuova che palle c'è nell'ultima delle palle sta agricraft così però vabbè raga invece è in bottom e l'agricraft quindi c'ho alla che cazzo è sta cosa i standardi what ho tipo buggato tutto raga allora vorrei scegliere la la reward c'è oddio c'è pure la cosa oddio cosa si chiama quel pack la palmo no oddio poi c'è quella che mette la lattuga è lattuga si dovrebbe essere lattuga credo il mio best in inglese yeah allora non so se prende la oe o il seme di patata che diciamo che il seme di patata però aspetta no aspetta 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 eeeh poteto il seme di patata lo posso craftare con l'agricraft c'è lo posso trovare anche dentro la terra con c'è la proprietà di merda di trovarlo mi manco tanto di merda però l'agricraft dovrei craftarlo anche credo no non si può craftare strano perchè aspetta ah no ok eeeh non è male perchè il seme di patata mi servirebbe per fare un sacco di cose si il seme di patata mi servirebbe per fare un sacco di cosette mmm però la scelta c'è la scelta ma la faccio dalla tinker e sti cazzi il seme di patata raga perchè la patata va sempre avanti a tutto ok poi 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 dovrei fare un crook ah e dovrei iniziare a fare pure le cose ok qua ah ma aspetta ma sto qua va a vite non dovrebbe andare a vite spero no ok meno male dovrebbe stare più a corpo che se andava a vite io tipo già so che morivo instant eh infatti si e come dicevo io raga quella giornata questo non so che cos'è va bene ragazzi diciamo che per questo primo episodio è tutto fate sapete nei commenti se vi è piaciuto questo video questa serie spolliciate per farmi sapere se questa serie vi piace vedete altri episodi di questa serie anche se non vi piace la faccio lo stesso perchè mi piace un botto niente ci vediamo al prossimo video Bella